Orchidea di Monosolo, buongiorno. Orchidea è una medicina per l'anima. Ecco l'altra offerta. Adesso sono tre chicche, tre piante da collezione. Una è una botanica, la maxillaria picta, una delle orchidee più profumate. Ha un profumo fantastico, fa un sacco di fiori e li fa tutti contemporaneamente per cui è molto preiscente come fiore perché quando finiscono tutti assieme poi ha un profumo che è fantastico. E' una pianta piuttosto da temperato fresco, viene dal sud del Brasile, sud del Brasile, Argentina. Bisogna di una notevole umidità, non troppo caldo di notte e d'inverno. Durante l'estate si bagna molto così, d'inverno invece è blovinata poco. Poi c'è due ibridi primari. Questo tra l'altro è un ibrido che ha fatto un amico, Gerard Smith, che è un belga, un francese che ormai è naturalizzato belga. Questo è un ibrido tra il dendrobium aberras e il dendrobium polisema. Ed è molto fiorifero perché la berras, poi non so perché l'ha chiamato così, è una deliziosa miniatura, ma è bellissimo. Ed è fiorito praticamente quasi tutto l'anno. E questo qui è un ibrido tra la berras e il polisema. E' anche lui molto rifiorente. Vedete, hanno tanti, tanti, questi sono tutti i rami che chiamano fiore. Vedete qua che hanno la spada. E se guardate, si chiama, lui la Gerard Smith l'ha chiamato Lutin Blank. Lutin vorrebbe dire elfo, perché se guardate attentamente un fiore sembra proprio un elfo. Non so se ne ci prendono bene. Questa è una pianta da temperato caldo, molto fiorifera. Anche una pianta molto bella come pianta, come come fiore, però è molto molto fiorifera. Ed è una pianta veramente notevole. La terza, la terza è un altro ibrido. Sarebbe l'epidendrum pseudoepidendrum per epiclea ecclesiana. Si chiama Epictleia René Marques Plum Tower. Queste sono le infiorescenze, vedete? Si può fare in ecografia e controluci. Vedete che c'è il ramo del fiore? E poi farà questo rame, si arriva così con questi rami che pendono. I fiori sono questi qua. E' un cocktail di colori incredibile. I fiori sono molto celosi, molto duraturi. Solo che questa qui non fiorisce per Natale. L'epica 3 René Marques Plum Tower fiorisce solitamente tra gennaio e febbraio. Quando fa molto freddo non si possono fare le spedizioni. Per questo lo facciamo nell'offerta di adesso. Le tre piante, perché l'epica 3 René Marques, la Maxillaria Picta, costa 30 euro e costa 36 euro il Dendrobium Lutin Blank. Per cui il totale verrebbe 96 più 10 di spedizione 106. Le vendiamo tutte e tre 100 euro, cioè 90 euro comprese le spese di spedizione. Per cui c'è 16 euro di sconto. Sono tre piante veramente queste che non si trovano molto facilmente e sono piante di grande grande soddisfazione. C'è una bellissima cosa, un aneddoto, sui libri e le specie. Perché generalmente quando si cominciano gli orchidei si cominciano con i piedi più grandi, più poliscenti. Poi pian piano si va a scoprire le cose un po' più diverse, un po' più particolari. Poi a un certo punto quando si arriva comunque adesso a diventare collezionisti, averne un po', allora generalmente si specializza. E c'è chi è specializzato, non so, per generi. Chi vuole solo, non so, solo maxillaria o solo Dendrobium. Ancora c'è un grande collezionista di Dendrobium che ha più di 400 specie di Dendrobium, oltre tantissimi ibridi. Chi vuole solo 4A e così via, chi vuole solo quelle profumate. Una cosa strana è che tanti, ci sono tanti, sono diversi collezionisti di orchidee bianche, che vogliono solo bianche. Poi c'è quelli che vanno per nazioni, che vogliono solo orchidee, non so, orchidee del Madagascar, oppure orchidee, non so, dell'Australia, così. Ma sono tantissimi anche quelli che vogliono le orchidee botaniche, solo le botaniche, non comprerebbero mai un ibrido. E allora mi viene sempre in mente una bella, un bello aneddoto di Graziano Marongiu. Più avanti faremo qualche video su Graziano Marongiu e Lecouf. E lui è stato per tanti anni il capo, il capo da Lecouf, da Marcel Lecouf, che è stato veramente uno dei più grandi, più importanti coltivatori di orchidee del mondo. E lui quando veniva alla fiera di Padua per Lecouf, mi ricordo che una volta c'è stato questo episodio bellissimo. Lui era lì, aveva due K3 identiche sul tavolo, c'era un appassionato che era interessato a una delle due K3 e stava parlando con questo qua. Allora c'era un grande collezionista di orchidee di Padua, che è arrivato da lontano, ha visto le due K3 sul tavolo, fa che bella, che bella sono mia, ha preso in mano le due K3 e Graziano gli dice, guarda che forse lui ne vuole una, dice, no no le voglio io tutte e due, che belle, che belle sono mie, ha preso le K3. L'altro è andato, un restatore con Graziano gli dice, ma che belle, che belle, come si chiama? E Graziano gli dice, K3 ha forbesi per moce, fa, ma come è un libido? E si fa, che brutta, che brutta, non le voglio più. Questo è uno dei tanti aneddoti sulle orchidee. Graziano Marongiu è stato veramente comunque un grande personaggio e il Lecouf. Prossimamente facciamo un video su Graziano, due o tre video su Graziano e due Lecouf, che sono stati veramente personaggi storici nel mondo di orchidee. Ok, condividete, pubblicizzate, mi raccomando, mettete mi piace. Ah, l'offerta qui è fino a desaurimento, perché non è che ce ne tante, di queste ce ne riusciremo a fare una ventina di offerte. Ok, grazie, arrivederci, alla prossima.